Ciao amici gatti e amici e gatte! Sapete che per me l'alimentazione è un argomento molto molto importante e sono sempre alla ricerca di crocchette premium per gatti che soddisfino sia me a livello di qualità sia il mio gatto a livello di appetibilità. Sul sito petgnam.it ho trovato delle ottime crocchette della linea fitmin purity holistic pet food che riassumiamo con fitmin una linea di alta qualità con diversi prodotti adatti a diversi tipi di gatti a base assolutamente soprattutto di carne. Le crocchette fitmin hanno come ingrediente principale appunto la carne soprattutto carne fresca o al massimo carne essiccata sempre in alte percentuali a raggiungere un volume di proteine animali fino al 38 per cento del prodotto. Sono crocchette grain free quindi non contengono cereali né glutine di mais o di grano mantenendo quindi basso l'indice glicemico delle crocchette favorendo quindi la forma fisica del gatto che specialmente se sempre in casa può tendere un po all'obesità. C'è poi all'interno delle crocchette un complesso di erbe che è diverso in base al tipo di prodotto che può contenere ad esempio l'ortica che purifica il sangue, la melissa che contribuisce a rilassare il gatto, zenzero che è antinfiammatorio e così via. Sono poi presenti gli oligoelementi, i probiotici per l'intestino, fibre che derivano da miele o barbabietole, estratto di zucca che riduce il cattivo odore delle feci e dell'urina e omega 6 e 3 acidi grassi per la salute del gatto. Tutta la linea fit mean contiene inoltre erba gatta che aiuta il gatto a pulirsi lo stomaco, lo aiuta nella digestione e lo libera dal pelo che continuamente ingurgita. Insomma è un cibo completo davvero di qualità e in più è disponibile in molte formulazioni adatte ai diversi gatti. Abbiamo ad esempio la versione castrate per i gatti castrati che vivono in casa, abbiamo la air ball per i gatti a pelo lungo, abbiamo il cibo indoor per i gatti che vivono solamente in casa, abbiamo delicious per gatti dal palato particolarmente difficile, abbiamo il dental per la salute della cavità orale, abbiamo il senior per i gatti anziani, abbiamo l'urinary per la salute del tratto urinario e la versione kitten per gatti fino a 12 mesi per gatti in gravidanza e in allattamento. Io con la mia lady ho provato le crocchette delicious e le sono piaciute molto, contengono carne di selvaggina, melissa e camomilla che per lei che è spesso nervosetta è adatta. Contiene inoltre altre erbette che fanno bene, sono molto interessanti e la percentuale di proteina grezza è del 33,5%. Sono crocchette particolarmente appetibili quindi adatte a gatti dai gusti difficili, che spesso ne rifiutano il cibo oppure che magari hanno bisogno di riprendere a mangiare dopo aver avuto un malessere. Vedrete che se sono un po' schizzinosi queste crocchette le mangeranno di sicuro. Le crocchette fit men le trovate appunto sul sito pet gnam, un sito che raccoglie molti prodotti di ottima qualità e le trovate in sacchi da 400 grammi e da un chilo e mezzo che costano rispettivamente 6 euro e 90 e 16 euro e 90. Vi consiglio di fare un giro sul sito pet gnam anche per provare le crocchette di loro produzione della linea appunto pet gnam. Sono crocchette particolari ottenute tramite estrusione selettiva, cioè una innovativa tecnica di lavorazione delle materie prime che esalta il tenore nutrizionale e favorisce l'assimilazione del prodotto senza aggiungere coloranti o conservanti. Spero anche questa volta di esservi stata utile, fatemi sapere se se proverete oppure se avete già provato le crocchette fit men e lasciatemi i vostri commenti qui sotto al video. Un bacio a tutti e ciao micigatti e micegatte!